Ciao a tutti, bentornati sull'antimeta, siamo il Lorenz e oggi siamo qua con la top mazzi precostruiti del 2023. Il video più atteso dell'anno sul nostro canale, il video che tutti gli anni va benissimo, quindi anche quest'anno mi raccomando un sacco di mi piace e fateci sapere i vostri top 3 mazzi nei commenti, perché vogliono sapere cosa ne pensate voi, se concordate, se non concordate, se pensate che alcuni mazzi siano più forti, visto che come vediamo sono 25 mazzi precostruiti, non siamo riusciti a giocarli tutti fino a fondo, ci sono quelli che abbiamo giocato di più, quelli che ci piacciono di più ma che non sono così forti e magari c'è del potenziale nascosto in alcuni mazzi che noi non abbiamo captato. Quindi questa top sarà strettamente personale a livello antimeta, legato soprattutto al mazzo base, niente modifiche, il mazzo così come è uscito. Specifichiamo un mazzo precostruito, comprato al prezzo con cui esce, senza aggiungere una singola carta. Quindi valutiamo la forza di quel mazzo, la potenza, così com'è, come è stato costruito, se hai un buon pool, un buon pool di terra, un buon pool di carte, se gira bene anche. Assolutamente, allora partiamo con due menzioni onorevoli. Facciamo una premessa, di questi 25 mazzi non sono tutti sullo stesso livello sulla carta, poiché tra Commander Master, il Dottor Wu e il Signore degli Anelli abbiamo ben 12 mazzi speciali a prezzo più alto dell'Universe Beyond e non perché c'è anche Commander Master. Invece altri 13 sono quelli delle espansioni regolari, quindi a prezzi un po' più contenuti. Quindi noi facendo una top mista sappiamo che ci sono alcuni mazzi che partono avvantaggiati, perché avendo un prezzo di uscita più alto c'è dentro più potenziale. Ma nonostante questo ci sono alcuni mazzi di questi più speciali fatti veramente male. E nonostante tanti mazzi, 12 appunto quasi la metà, sono avvantaggiati perché a livello a prezzo più alto, ci sono comunque tanti mazzi di quelli base fatti molto molto bene. Esatto, avendo comunque il vantaggio appunto del prezzo inferiore. Esatto, infatti anche il prezzo inferiore rispetto agli altri è un buon punto di partenza. Quindi le due menzioni onorevoli appunto sono Furia degli Abissi e Forza Ciurma. Gli ultimi mazzi usciti con Ixalan. Esatto, ovvero i tritoni e i pirati. Che tra parentesi voglio aggiungere sono anche i due meno richiesti, perché sono cannibalizzati i dinosauri che hanno un prezzo alle stelle sul secondario, i vampiri non si trovano. I tritoni e i pirati che si tirano dietro. Esatto, su Fantasy Store ci sono ancora, sul mercato secondario li trovate ad ancora meno e quindi, beh vi lasciamo il link in descrizione se volete recuperarli. E si che girano anche abbastanza bene. No, sono fatti bene, sono due mazzi fatti veramente bene, si vede che piacciono poco. Eh sì, saranno proprio la tribù che piace poco. Cioè i pirati è forte perché ha tutti i pirati che servono. Cioè come avete visto in video modifica è difficile, non ci sono pirati forti non in quel mazzo. Quindi è un mazzo che praticamente è già completo, potete modificare le terre, potete aggiungere qualche stregoneria, qualche incantesimo, qualche carta comunque forte, versati in tutti i mazzi con quei colori, ma è un mazzo già pronto. E il tritoni comunque, abbiamo visto che rampa un sacco. Sì, il tritoni non ha i problemi di terra, riesce a fare tutto quello che devi fare, è molto veloce. Comandante fortissimo, forse anche meglio di Kumena. Sì, ci va a braccetto con Kumena secondo me. Ok, quindi queste sono le due menzioni onorevoli. Poi partiamo dal quarto, dalla top, che consiste nelle tre medaglie, oro, argento e bronzo. E più uno, un gradino in meno. E quella di legno. La medaglia di legno se la prende il mazzo dei Cavalieri di Rohan, del Signore degli Anelli. Esatto. Mazzo capitanato da Eowyn, fanciulla combattente, 5-4 a costo 5, di cui blu, rosso e bianco, attacco improvviso. All'inizio del combattimento nel tuo turno, se un altro umano è entrato nel campo di battaglia sotto il tuo controllo in questo turno, crea due pedine creatura, Cavaliere umano, due due, rosce, contravolge rapidità. Poi se controlli sei o più umani, pesca una carta. È abbastanza forte. Tutti i mazzi a tema umani sappiamo che sono fastidiosissimi, perché gli umani sono il parassita del pianeta Terra, e quindi mischiando tanti umani insieme in un mazzo commander, sicuramente possono infestare e far pericolo a tutti i mazzi del pianeta. A parte gli scherzi, gli umani sono fortissimi. Poi abbiamo il comandante che è spettacolare, perché è un 5-4 attacco improvviso, quindi attacca e legna. L'effetto trigger anche se entra in combat senza attaccare. Qui c'è, deve naturalmente essere entrato un altro umano, però in un mazzo pieno di umani che fa pedine, così un umano entra. Crei altri umani ancora, rapidi tra l'altro, che possono già attaccare. E poi se ne hai tanti peschi anche, quindi è un mazzo che fa tutto. Il prezzo di ingresso era più alto, perché del Signore degli Anelli mi sembrava forse sul 55 euro, credo, uscito dalla stampa. Penso di sì, è abbastanza alto. 55-60 euro, costa un po' di più degli altri. A livello di terre è messo bene. Aveva tante carte, tante ristampe ottime, come spada spighe, verdetto supremo, il corno della radio e la porta del destino, che sono veramente forti. E poi c'era il ranger di frontiera che adesso su due piedi, non mi ricordo se è una ristampa o no. Comunque è un costo 3-3-3 attacco improvviso, che ci fa guardare la prima carta del Grimorio in qualsiasi momento. E fintanto che un avversario controlla più terre di te, puoi giocare a terre dalla cima del Grimorio. Molto forte in un mazzo senza verde, che non rampa. Comunque c'è il blu, che ti fa pescare. C'è il bianco, che come vedete con questo effetto c'è anche il viandante navigato, che anche questo ci permette di rampare se siamo in svantaggio terre. Insomma, mazzo fatto molto bene. C'ha delle ottime terre base, quindi c'ha le checkland, c'ha dentro le tre checkland dei colori, quindi insomma, secondo me è un mazzo super. È un mazzo super. E si becca la medaglia di legno. Una medaglia di legno. Rosicchia un po' di legno. Rosicchia un po' di legno, Eowyn. Poi, medaglia di bronzo, abbiamo pensato a carica di cavalleria, di avanzata delle macchine. Comandata... Da Sidar Jabari di Zalfir, è un 4-3 a costo 4, di cui bianco, blu, nero, che ha l'abilità preeminenza. Ovvero, si attiva anche se è in zona di comando. Gratto. Ogni qualvolta attacchi con uno o più cavalieri, se Sidar Jabari è nella zona di comando o sul campo di battaglia, pesca una carta, poi scarta una carta. A volare attacco improvviso, e ogni qualvolta infligge danno da combattimento a un giocatore, rimette sul campo di battaglia una carta creatura a cavaliere e bersaglio del tuo cimitero. Già che a volare attacco improvviso è molto facile che faccia danno agli avversari. Quindi, con preeminenza pesca e scarti, ti butti al cimitero un cavaliere, poi quando fai danno lo rimetti in campo. E' molto forte questo, sì. Molto forte. Diciamo che i cavalieri, stesso discorso degli umani, messi insieme, tanti cavalieri fanno un esercito. Sono un filino meno forti degli umani a livello di sinergia, di cozzaglia. Cioè, metti insieme cavalieri o metti insieme umani, gli umani a caso sono più forti, non chiedeteci perché. Comunque ci sono tanti belli effetti. A livello di terre si è messi benissimo, perché ci sono i tre templi. Ci sono due di quelle che entrano tappate a meno che non controlli due più terre base. Ci sono quelle che riveli la terra base, tra virgolette, dalla mano, ed entrano stappate. Ci sono quelle di jumpstart che scegli il colore ed entrano tappate. Insomma, a livello terre è fatto veramente bene. E' un mazzo pieno, pieno, pieno di peschini. Cioè, pesca un sacco. Tanti cavalieri piccoli che messi insieme danno un poco di vantaggio alla volta. e alla lunga ne avrai tanto. Molti. In più, essendo dell'espansione regolare, il costo era un po' più basso. Il costo era un po' più basso, ma essendo, diciamo, il primo comandante con preeminenza, che una volta il commander 2017 era eminenza, però la ciccia non cambia, l'ho intradotto male, era molto richiesto. Quindi adesso sul secondario costa anche qualcosina di più. Comunque, da fabbrica, il prezzo era base. Quindi, con le risorse base, sono riusciti a tirare fuori un ottimo mazzo. Tante, tante ristampe buone, valide. Quindi, insomma, secondo me... E poi, la cosa bella di questo mazzo è che è un mazzo esper, ma non è il classico esper. Non è il classico esper, è un esper che picchia, questo. È un esper che picchia, quindi è bello anche per quello. Gli esper piacciono sul canale, l'esper è la tribe preferita di tutti. Eh già, per nuovi motivi. Per nuovi motivi, perché è il maggior sponsor di esper di questo mondo. Però sì, Darjavari piace anche a me, piace anche a me. Ma, torniamo a noi. La medaglia d'argento, abbiamo detto che sei la cucca, il mazzo Eldrazi Unbound di Commander Master. Con comandante Zulodok, Voidgorger, un 7-4 a costo 6, di cui 1 in colore. E dice, le magie che lanci dalla tua mano in colori, con costo di mana 7 o superiori, hanno cascata e cascata. Quindi si attiva due volte cascata. Cascano due volte. Con il loro valore di mana superiore a 7, però. Allora, il malus di questo mazzo è che costa tanto. 7 o superiori, quindi 7 compreso. 7 compreso, certo. Questo mazzo costa tanto a livello di prezzo base iniziale, perché era il Commander Master. Quindi costava un botto. Comunque, noi non gli davamo tanto, perché è scarico di Eldrazi. Cioè, c'ha soltanto, come si chiama, aiutami, Kozilek, la grande distorsione. Quello a costo 10, che può counterare se scarti carte. Quando lo lanci, peschi carte fino ad arrivare a 7 in mano. Una cosa del genere, minacciare 12-12. Sì, ha un qualche altro... Ma di Eldrazi forti non ne ha. Non forti, ha qualche altro Eldrazi. Ha delle creature in colore, buone, però non ha carte fortissime, diciamo, dentro. C'ha delle stregonerie veramente forti. L'incantesimo Game Master. Insomma, è un mazzo fatto bene. È un mazzo fatto bene, però ci sembrava un pochettino scarsetto. Invece, giocandolo, picchiava. Cioè, rampa meglio del verde, questo mazzo in colore. Cioè, tiri veramente... C'è un bel po' di sassi che vanno a sopperire il ramp. Quindi riesci ad avere molto mana in pochi turni. E a giocare il comandante. E il turno successivo a giocare cose grosse per attivare la cascata. Quando attivi la cascata... Sono pericoli per tutti. Esatto. Il mazzo inizia a girare e inizia a macellare gli altri. Quindi è molto, molto pericoloso. Esatto. Poi diciamo che si becca la medaglia d'argento perché c'ha il costo di ingresso che è alto. E forse, come ci avete fatto notare in tanti, sul secondario il prezzo è... Cioè, fai prima a prendere le singole che a prendere il mazzo. Esatto. In sostanza ci avete fatto notare. Nonostante questo, il prezzo del mazzo non cala. I planeswalker e i mazzi incantesimi di Commander Master sono scesi di prezzo. Si trovano sui 60-70 euro. Sì, perché non erano un gran che a fine. Questo qua però, a parte che non si trova, ma se lo trovate il prezzo è alto. Quindi evidentemente, nonostante questo, è richiesto. Se ci fossero stati degli altri eldrazi più forti, sicuramente dentro probabilmente si sarebbe preso di prepotenza, arroganza e prezzo il primo posto. Calcola che c'è anche tante terre, non base ovviamente, che fanno effetti diversi tra di loro che però sono molto, molto utili. Si, esizzano. Certo, c'è il trono di Urza. Poi ci sono 15 distese che comunque le distese base non sono così facilmente reperibili. Quindi ce l'hanno un prezzo, o le distese, non è come una terra base qualsiasi. Insomma, mazzo ottimo, ottimo, introvabile, ma ottimo. Mentre il primo posto, la medaglia d'oro del 2023 dagli Antimeta, è Influenza Corrotta. Con Capitano Ixel, lo Shion di Atraxa, cos'era? Shion? Seguace no, non mi ricordo la traduzione. Adetta? No, non mi ricordo più. No, insomma, la Shion, la Shion, Shion of Atraxa, più bello di Shion. Shion of Atraxa, comunque è la lieva di Atraxa, che è un 2-5, costa 4, di cui un bianco, un nero e un verde. A volare, Cautela e Tossico 2. Ricordiamo che Tossico, quando questa creatura fa danno da combattimento a un avversario, si becca due segnalini veleno, perché è il valore del Tossico. E poi, come effetto, dici all'inizio della tua sua fase finale, ogni avversario che ha tre o più segnalini veleno, esilia la prima carta del proprio Grimorio a faccia in giù. Puoi guardare e giocare queste carte, fino a che rimangono esiliate. Puoi spendere male come fosse male, di qualsiasi colore, per lanciarle. Quindi, è un modo in più per vedere altre carte. E comunque, il mazzo gira davvero molto bene, anche da precostruito. C'ha molte carte con Tossico. Qualcuna, mi sembra, che avesse anche infettare. E' veloce, è un mazzo molto veloce. Riesce a ucciderti abbastanza alla svelta con i 10 segnalini veleno. Allora, c'è da dire che il più grosso bonus di questo mazzo è che è dell'espansione regolare. Quindi costa anche poco. Adesso, sicuramente è introvabile. Cioè, noi abbiamo cercato sul secondario quanto si può trovare il mazzo costruito. Però, sicuramente è fortissimo. Se ne sono accorti tutti. È uscito in febbraio, marzo, mi sembra. Quindi, chi lo voleva, se ne è accaparrato. Però, diciamo che sulla carta, in teoria, risorse inferiori, hanno tirato fuori un super mazzo. Vediamo che hanno Noxious Revival, che è una ristampa di Phyrexia. Se non mi sbaglio, è una ristampa. Penso proprio di sì. Comunque, con un mana Phyrexiano. Quindi, o paghi due vite, o paghi un verde. A instant. Metti una carta dal cimitero, in cima al tuo grimorio. Questa è un'ottima ristampa. Diciamo che è una delle carte più costose che ci sono all'interno. C'è anche la Ghostly Prison, però, che è una super... Cioè, io sono un super fan di queste carte. Trigione spettrale, propaganda. Quelle che fanno un minimo di stacks non opprimente all'avversario. Non opprimente. Perché non è che gli impedisci di fare tutto. Però, giocata una Ghostly Prison, così... Insomma, intanto ce n'è una. Se me la togli bene, però... Tanta roba la Ghostly Prison. Poi, cosa abbiamo? La lanterna cromatica. Abbiamo... Abe Glistering Sphere. Esatto. Un'ottima carta, questo artefatto. Costa 3. Entra tappato. Quando entra prolifera. Aggiunge un mana. E si ha corrotto. Aggiunge 3 mana di un qualsiasi colore. Attiva solo su un avversario 3 o più segnalini di veleno. Però, con questo mazzo... Questo qui credo che non sia una ristampa. Penso sia una delle carte nuove che si trovano solo qua. Sì, sì. E, insomma, comunque è un ottimo... È un ottimo mazzo. Poi abbiamo anche la Merciless Eviction, che è una carta bellissima. Sì. Costo 6. Scegli uno, trasighi tutti gli artefatti, le creature di incantesimo di Planeswalker. Quindi fa una bella piazza pulita. Insomma, mazzo super degno di Atraxa. Esattamente, degno di Atraxa. Super preferito da... È ovvio. Da che robe. Ovvio. Bene, ragazzi. Siamo riusciti a fare anche un video abbastanza contenuto. Abbiamo detto tutto quello che volevamo dire in poco tempo. E questo qui è la cosa più bella della giornata. E niente. Fateci sapere cosa ne pensate. Mi raccomando. Ci teniamo a leggere i vostri commenti. Da qui a Natale vi teremo compagnia con tanti video atipici, visto che non ci sono unboxing. Ah già, purtroppo. Purtroppo. Vedremo. Vedremo se Natale regala qualcosa. Vedremo se Natale regala qualcosa. Ma... Mi raccomando. Restate aggiornati sull'antimeta. Direi che per oggi è tutto. Al prossimo video. Grazie a tutti.